Un altro mandato di arresto per Fabio Riva, figlio di Emilio Riva, patron dell'Ilva di Taranto, che per sfuggire al carcere da tempo vive in Inghilterra e pertanto nei suoi confronti è stato necessario un mandato di arresto europeo. Secondo la Procura di Milano avrebbe ideato un sistema per ricevere indebitamente contributi pubblici per l'esportazione, contributi previsti per le società italiane che sportano e che si trovano di fronte a forti dilazioni di pagamento da parte dei clienti esteri. L'Ilva, secondo i pubblici ministeri, non avrebbe avuto i requisiti per accedere a questi contributi perché ha a che fare principalmente con grandi aziende estere che pagano alla consegna o al massimo in 90 giorni. Per ottenere questi soldi sarebbe stata costituita una società in Svizzera che veniva interposta fra l'Ilva di Taranto e i committenti stranieri, in maniera tale da far figurare che i pagamenti all'Ilva venivano effettuati dalla società elvetica che dilazionava i pagamenti nei tempi previsti per ottenere i contributi. Il reato ipotizzato per tutti è di associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato per centinaia di milioni di euro. I magistrati hanno iscritto nel registro degli indagati anche l'Ilva di Taranto in violazione della legge sulla responsabilità amministrativa degli enti e per i reati commessi dai dipendenti. Oltre agli arresti, il nucleo di polizia tributaria di Milano questa mattina ha fatto molte perquisizioni sequestrando conti correnti e beni per circa 100 milioni di euro. Questa sarebbe una tranche di un'inchiesta più ampia sulla quale sta indagando la procura di Milano su vicende finanziarie, societarie e fiscali del gruppo Riva.